Gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni. L'uomo è gravemente indiziato di attività estorsive e danni di una nota attività commerciale nella cittadina torrese e di maltrattamenti in famiglia. Le indagini della squadra investigativa del commissariato di Torre del Greco, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno visto luce solo a seguito della denuncia alle forze dell'ordine da parte della titolare dell'esercizio commerciale che subiva atti estorsivi. Il 44enne da circa un anno e mezzo avanzava a richieste estorsive nei confronti della donna, minacciandola anche presentandosi presso l'esercizio commerciale. La titolare era costretta a versare somme di denaro che andavano dai 50 ai 200 euro, oltre a tollerare che lo stesso si recasse quotidianamente nell'esercizio dal quale prelevava prodotti di genere alimentari senza pagarne il prezzo. Nel corso delle indagini è stato possibile accertare che il 44enne aveva, nel corso degli ultimi tre anni, esercitato violenze particolarmente gravi nei confronti della sua compagna anche in presenza di minori.